ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi troviamo nel centro della croazia precisamente dove sarà nel parco forestale di plitvice pronti ad esplorare i suoi 16 laghi ricchi di cascate andiamo il parco venne istituito nel 1949 diventando il primo parco nazionale croato e dal 1979 fa parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'unico questa meravigliosa riserva naturale occupa ben 33.000 ettari i suoi laghi terrazzati collegati da bellissime cascate si sono formati dalle acque del fiume bianco e del fiume nero all'interno del parco è possibile scegliere fra vari percorsi di diversa lunghezza noi vi consigliamo al sentiero c perché vi permetterà di visitare tutti i luoghi più suggestivi della riserva nell'arco di 5 o 6 ore in alcuni tratti è possibile muoversi a bordo di battelli panoramici elettrici un servizio compreso nel biglietto d'ingresso al parco innumerevoli passerelli di legno consentono di poter passeggiare nel parco vivendo da vicino la sua natura prorompente senza intaccarne in nessun modo la bellezza i laghi di plitivice sono un vero paradiso per chi come noi ama la natura se il video vi è piaciuto lasciateci un bel commento e iscrivetevi al canale ciao ciao